ciao ragazzi questo è l'acquisto di un po di tempo fa la mia splendida versace allora apriamo qui abbiamo una tasca questa invece chiusa con dentro l'altra cosa e questa è un'altra tasca quindi è veramente una bella borsetta oltre che esteticamente è bella perché proprio è fatta bene in più qua dietro c'è un'altra taschina qui attaccate la tracolla e siamo a posto